Allora, questo libro è una cosa un po' diversa da quella che lei ha fatto finora, perché ha questa caratteristica di essere molto divulgativo e dedicato ai ragazzi, sostanzialmente. Racconta le sue esperienze nei paesi attraversati, come dicevamo, dai conflitti bellici, dalla Libia, l'Afghanistan, l'Ucraina, la Siria. La prima cosa che vorrei chiederti, Francesca, è perché in questo momento un libro così dedicato ai ragazzi? Come ti è venuta l'idea? Innanzitutto buon pomeriggio ancora, grazie al direttore per la sempre generosa introduzione e a voi per essere qui questo pomeriggio, ragazzi soprattutto. Perché questo libro adesso? Questo libro nasce prima del 24 febbraio, quindi era in una fase di scrittura lunga e precedente all'Ucraina, al conflitto in Ucraina. il conflitto in Ucraina ha accelerato la fine e l'uscita del libro, che doveva essere non così rapida. Ed è un'idea che scorreva dentro di me da tempo, da quando ho scritto il libro sul trafficante di esseri umani, su Io, Khaled, Vendo Uomini, Sono Innocente, perché quando ho cominciato a parlare di quel libro con i ragazzi delle scuole superiori e delle scuole medie, quindi con alcuni dei vostri coetanei, ho avuto la sensazione di ricevere delle domande più pure di quelle che di solito fanno gli adulti, perché erano domande che non prevedevano una cosa scontata come risposta o che non prevedevano di conoscere già i contorni della risposta che sarebbe arrivata. E lo stimolo in più è arrivato dalle domande che ha cominciato a fare mio figlio, che ha sei anni e mezzo e che convive con un lavoro particolare che fanno mamma e papà e quindi fa delle domande altrettanto particolari. Per esempio, su questa guerra qui, Pietro, mio figlio, non mi ha chiesto se sarebbe arrivata la guerra, mi ha chiesto quando sarebbe arrivata la guerra. e mi ha chiesto, per esempio, se la distruzione che vediamo alla televisione e che vede alla televisione anche per il lavoro che fanno mamma e papà, se i palazzi di fronte a casa nostra un giorno sarebbero caduti e si sarebbero anneriti come quelli dei video che fanno mamma e papà. Quindi scrivere un libro così mi sembrava una forma di rispetto verso gli interrogativi dei ragazzi a cui non ho risposto da storica perché non sono una storica e quindi questo non ha, diciamo, l'ambizione di essere un libro che dà delle risposte esaustive dal punto di vista storico, è il libro di una cronista ed è il libro di una cronista che si sente chiedere, per esempio, da un ragazzo cosa significa la parola rifugiato e che nel sentirselo chiedere ricorda che forse non se lo ricorda più neanche lei perché come tutte le parole che usiamo troppo finiamo per usarle come degli automatismi senza renderci conto che tanto più le usiamo male tanto più diventano luoghi comuni e tanto più determinano una mancata comprensione della realtà che viviamo e questo è il motivo per cui ogni capitolo di questo libricino è accompagnato da un piccolo glossario che serve non soltanto a cercare di spiegare cosa significhi sunnita cosa significhi shita cosa significhi sharia cosa significhi burka ma serve per esempio a ricordare ai ragazzi ma prima di tutto a me che quando sto definendo una persona un profugo gli sto togliendo un pizzico della sua identità lo sto mettendo dentro un contenitore e quel contenitore lo priva della dignità della sua biografia e nel ricordarlo ai ragazzi in verità ho fatto un'operazione egoistica perché ho chiesto a me di ripassare il significato delle parole ecco allora intanto facciamo una premessa noi facciamo questa nostra conversazione poi da un certo momento in poi daremo spazio alle vostre domande perché ci sembra importante proprio per i motivi che Francesca ha appena detto cioè la sollecitazione che arrivava soprattutto dai più giovani fare in modo che questa non sia una giornata nella quale parliamo tra di noi ma parlate anche voi che è la cosa più importante ho ancora un paio di cose da chiederti Francesca appunto tu racconti i vari fronti di conflitto che hai visitato in questi anni e la cosa secondo me che rende straordinaria il tuo racconto è che intanto che tu vai nei luoghi cosa che ormai per i giornalisti è diventata diciamo o un lusso oppure una cosa quasi inutile e invece tu hai ancora la voglia, la forza e la passione di farlo e poi quando vai nei luoghi appunto racconti quello che vedi con la totale onestà del tuo approccio giornalistico e anche etico se vogliamo cioè non vai mai con un pregiudizio o con un preconcetto vai e racconti e cerchi soprattutto di raccontare il punto di vista essenzialmente poi delle vittime perché quando parliamo delle guerre parliamo soprattutto di vittime e di civili qual è la costante se ce n'è una delle esperienze che hai fatto in ciascuno di questi paesi e poi magari da lì arriviamo a parlare della guerra di questo momento che è quella che sembra più urgente se vogliamo anche più preoccupante dal punto di vista della pace nel mondo poi parliamo anche di pace ovviamente Quando con Di Agostini abbiamo preso l'Atlante abbiamo detto scegliamo alcuni dei luoghi che hai visitato e li ho scelti sulla base di un criterio che era scegliere i luoghi in cui avevo lavorato di più ma anche che avevo più studiato quindi la Libia è senz'altro uno di questi l'Iraq è senz'altro uno di questi perché insieme al glossario c'è una cronologia minima ma per un motivo molto semplice che la mia generazione io non sono giovane ho 41 anni e un pochino mi innervosisco quando mi dicono che sono una giovane giornalista perché non mi sentivo più giovane a 20 anni quindi adesso ho 41 ma anche meno comunque per me che ero giovane quando c'è stato l'attentato delle torri gemelle sì allora ero giovane effettivamente certe parole, certe dinamiche certi protagonisti della storia contemporanea erano familiari il profilo di Osama Bin Laden, di Gheddafi erano delle persone che facevano parte della nostra contemporaneità per chi è giovane oggi no, per chi è giovane oggi Gheddafi è una cosa lontana per noi Gheddafi era la notizia del telegiornale era Gheddafi arriva a Roma viene accolto a Roma dall'allora presidente del consiglio ci sono le manifestazioni e quant'altro Osama Bin Laden era centrale nella narrazione del telegiornale alle 8 della sera un ragazzo di 14 anni che arriva oggi a sentire l'erede di Osama Bin Laden non sa chi è Osama Bin Laden ma è come dire è naturale che non lo sappia perché quella roba è diventata esattamente come la parola profugo un luogo comune un contenitore e allora mi sono sentita di accompagnare i capitoli con delle anche biografie minime quindi c'è una piccola biografia di Bin Laden una piccola biografia di Gheddafi perché non si può capire a questo lo dico a me perché l'ho capito così in tanti anni non si può capire un paese come la Libia senza capire bene il profilo di Gheddafi senza capire bene quanto una dittatura di 42 anni 42 anni questo per dirlo ai ragazzi 42 anni significa la mia intera vita e significa una dittatura lunga più del doppio del fascismo pensate quante generazioni vengono alterate da una dittatura così lunga per cui per dare un po' la durata la dilatazione del tempo dei paesi che viviamo e anche una collocazione geografica c'è una costante la prendo sempre lunga ma poi rispondo alle domande c'è una costante sì la costante è che mi sono resa conto riprendendo tutti gli archivi di questi paesi rileggendo le sbobbinature delle interviste che non ho mai trovato un interlocutore che fosse un interlocutore compiaciuto dalla propria condizione di vittima non uno e mi sono detta quando li raccontiamo con troppa compassione facciamo difetto e allora ho recuperato una lezione che mi arriva da una autrice a me molto cara che è Svetlana Alexievich una scrittrice bielorussa di madre ucraina premio Nobel per la letteratura del 2015 che diceva di se stessa io le mie orecchie sono un registratore di vite io raccolgo delle storie che sono delle storie minime e leggendo le sue storie mi sono resa conto che nelle storie minime come nelle fiabbe nelle fiabbe c'è Pollicino e c'è la morale c'è Biancaneve e c'è la morale ci sono i fratelli Grimm e c'è la morale le storie minime contengono la morale della storia contengono la morale della guerra tutte le storie minime e allora ho provato a partire dalle loro storie minime dalla storia di un professore afgano di uno studente iracheno di un negoziante siriano di un giornalista libico e via così infatti tu diciamo Svetlana la citi già nell'introduzione ed è un po' potremmo dire forse il virgilio di questo tuo racconto da quello parti ti volevo chiedere a proposito di storie intanto tra i paesi che ci racconti nel libro e che hai visitato qual è quello che ti ha colpito di più e quale storia se ce n'è una che ti è rimasta nel cuore delle tantissime che hai raccontato più delle altre o che ti ha colpito più delle altre perché poi appunto giustamente come dicevi tu io penso che la forza del tuo lavoro nei luoghi in cui c'è tanto dolore è proprio quella di sottrarre no? cioè perché è facile il racconto del dolore se vogliamo per alcuni aspetti no? sfocia a tratti persino nella pornografia del dolore invece la tua forza è che asciughi il più possibile se ce n'è una in particolare che ti è rimasta impresso allora se c'è un paese che mi ha insegnato una cosa importante che noi giornalisti non ammettiamo mai cioè che non avevo capito niente del paese che stavo raccontando è la Libia che è un paese che a me ha insegnato molto perché mi ha insegnato che la storia che avevo pronta all'imbarco di Fiumicino non corrispondeva mai a quella che trovavo quando sbarcavo e che se devi scrivere devi avere l'elasticità mentale per vedere che la storia non c'è e ce n'è un'altra e per imparare a raccontare è come quando durante le interviste tu hai pronta la tua lista di domande che sono veramente brillanti però la risposta che ti dà il tuo interlocutore ti porta da un'altra parte e allora tu devi accantonare la tua lista di domande e devi rispondere appunto la virtù della seconda domanda che è quella che è data da che cosa? Dall'ascolto dell'interlocutore sempre noi a volte ci smarriamo e nell'ascolto la scuola anglosassone di scuole di giornalismo che dice bisogna ascoltare con il medesimo interesse e con la medesima partecipazione il guardiano il portiere di casa di Tizio Caio e il primo ministro e Churchill così e così è perché dico della Libia per dire il portiere Churchill perché a volte noi quando partiamo ma magari anche perché siamo appassionati siamo impazienti vogliamo la storia la vogliamo subito e vogliamo proprio quella che cercavamo e il lavoro che faccio io nei luoghi a volte un po' complicati che frequento è un lavoro di grandi attese le attese infinite spesso inutili quasi sempre ingiustificate tipo aspettare per ore il tempo in Medio Oriente noi lo calcoliamo a tazzine di tè che ci danno da bere quindi quanto devi aspettare 10 tè al cardamomo poi ti danno il permesso per attraversare il checkpoint poi arrivi al checkpoint ed è successo qualcosa di metafisico che fa sì che quel permesso non vada più bene e quindi aspetti altri tè altri 10 tè al cardamomo e all'inizio pensi che queste attese siano uno spreco in verità queste attese sono importanti perché se ti guardi intorno in queste attese capisci il paese in cui stai e una volta in Libia ero ma ben prima di tutte le polemiche del tema migratorio che diventa così divisivo era il 2013 forse ero seduta al nono caffè al nono tè dentro il ministero dell'interno passa di fronte il segretario di un funzionario e mi dice stai sbagliando non devi cercare i centri di detenzione ufficiali quelli li sappiamo dove stanno devi cercare quelli gestiti dalle milizie che sono decine e sono anche controllati da gente che sta qua dentro lui mi stava dando la notizia delle notizie anni prima che diventasse una notizia e se io non l'avessi ascoltato quel suggerimento poi ci ha voluto tempo per capire quello che mi stava dicendo ma quella suggestione mi arrivava da un attore gregario della grande storia che io avevo in testa e che è diventato invece la voce del racconto la voce della sfumatura quindi in questo senso certamente la Libia che è un paese che mi ha insegnato proprio le sfumature e che le categorie di giudizio che noi applichiamo qui lì non funzionano indipendentemente dal fatto che ci piacciono non funzionano la storia è una storia recente che abbiamo raccontato prima di tutto sul giornale sulla stampa è la storia di Faim è la storia di un rifugiato appunto di un professore vedete un'abitudine di un professore universitario di Kabul che io ho avuto la fortuna di conoscere prima a Kabul quando prima che i talebani entrassero in città e che ho avuto e l'abbiamo seguita così sul giornale la sua storia quando era a Kabul e poi lo siamo andati a ritrovare quando è diventato un rifugiato e adesso vive in Germania per raccontare la sua vita di dopo e quando lo sono andato a trovare in Germania dopo sei mesi che era scappato via gli ho chiesto cosa gli mancasse di più della sua vita di prima e lui mi ha risposto una cosa che in tanti anni non mi aveva mai detto nessuno mi ha detto mi manca la mia reputazione questo ve lo dico non solo perché è una cosa straziante in sé ma ve lo dico perché perché dentro di me che pure sono avvertita alle cose dell'animo dei rifugiati c'è stato un centimetro quadrato forse meno che non se l'aspettava perché nella mia testa lui era già diventato un rifugiato e nella griglia del rifugiato la reputazione non c'entrava quasi più era già meno diritto di prima e ve lo dico con dolore perché questa cosa qui carsicamente ha funzionato anche dentro di me quindi pensiamo come funzioni questo movimento di parole con qualcuno che è giustamente meno avvertito sulle cose del mondo beh questo questo racconto appunto sull'importanza della reputazione per una persona sradicata completamente dalla sua vita dal suo mondo dal suo territorio e che noi appunto siamo abituati a pensare che ormai debba avere altre priorità no? la dico molto male sei un poveraccio accontentati del fatto che ti diamo un piatto di minestra che ti accogliamo in questo paese e non rompere le scatole è un po' una costante di questi anni e in queste ore facciamo una riflessione diciamo un po' più attuale proprio su quello che sta succedendo stiamo di nuovo assistendo ad un ad uno scontro che è diplomatico ma avviene sulla pelle di tanti disperati in carne ed ossa magari molti dei quali saranno pure professori universitari che vengono via da guerre o da situazioni disperate cercando una nuova vita e cercando di farlo difendendo la loro reputazione anche la loro reputazione che giudizio dai di quello che sta succedendo sul fronte migranti sullo scontro in atto tra il governo italiano le ONG e oggi dobbiamo dirlo anche tra l'Italia e il resto d'Europa perché sul tema dell'accoglienza e del salvataggio soprattutto dei migranti a bordo delle navi noi siamo di nuovo nell'occhio del ciclone per usare una formula giornalese a me colpisce una cosa di questo momento mi colpisce che non ci sia un racconto neanche un racconto che non ci sia da parte della politica tutta un progetto che guardi ai paesi di provenienza di queste persone da qui a 15 anni poi se ci fermiamo a pensare ci rendiamo conto che la politica tutta questi progetti non ce l'ha neanche per l'Italia quindi non ci stupisce che non ce l'abbiano per altri paesi perché non ce l'hanno neanche per le a me piacerebbe sedermi di fronte ad una persona che amministra qualcosa di questo paese che mi dice io ho un'idea di questo paese tra qui ha due generazioni che ha questo io il paese me lo immagino così la città me la immagino così l'aiuto all'Etiopia me lo immagino così ho questa soluzione per il Tigrai puoi essere più o meno d'accordo ma ci vogliono due generazioni perché i problemi complessi hanno bisogno di soluzioni altrettanto complesse cioè tendenzialmente di tempo quello che mi colpisce è che non ci sia mai da parte appunto del decisore politico tutti un'assunzione di responsabilità noi oggi siamo qui non solo siamo a Catania non solo per una impuntatura ideologica o politica ma perché nei vent'anni precedenti non c'è stata mai una soluzione costruttiva di un tema che non è necessariamente un problema ma che è un processo su cui come tutti i processi in divenire bisogna mettere mano perché le cose non si risolvono da sole bisogna rimettere mano da una parte e dall'altra del Mediterraneo e questa soluzione non è mai arrivata questo progetto non è mai arrivato e questo stupisce perché a forza di tirare per la giacchetta la politica su questo tema si perdono di vista le storie delle persone che sono nella stragrande maggioranza dei casi le persone che arrivano se noi le ascoltassimo ci racconterebbero per esempio che ci sono emergenze nuove nel mondo perché oggi sui barconi ci sono tantissime persone che arrivano dal sudest asiatico che ci dice questo che sta succedendo qualcosa per esempio ci raccontano delle alluvioni in Pakistan ci dicono che non si scappa più solo di fame che non si scappa più solo di guerra che tutte le definizioni che abbiamo dato fino ad oggi a proposito di contenitori e cioè migrante sì rifugiato è rifugiato solo chi scappa dalla guerra non funzionano più non funzionano più neanche per le Nazioni Unite che dicono beh dobbiamo cominciare a pensare che il rifugiato è pure quello che scappa dalle alluvioni non solo quello che scappa dai proiettili la storia di queste persone già ce lo racconta perché oggi arrivano delle persone da nazionalità e da paesi che 15 anni fa sui barconi non c'erano e oggi ci sono e quindi possiamo prevedere che tra 10 anni saranno di più e che arriveranno da altri posti del mondo allora a forza di dire chiudiamo il porto apriamo il porto tu scendi tu sali tu stai bene tu stai male il raffreddore non ce l'hai perdiamo di vista il tema della questione il tema della questione è perché sono di più perché c'è la grande macchina dei trafficanti va bene ma perché c'è la grande macchina dei trafficanti perché stanno succedendo delle cose irreparabili nel mondo che non sono solo le guerre sono le frane sono i deserti è la fame non c'è il grano c'è il colera in Siria non succedeva da 30 anni c'è il Libano c'è il colera la gente muore di fame in un paese che fino all'altro ieri era la Parigi del Medio Oriente adesso muoiono di fame vivono al buio dici scappi voi che fareste io scapperei quanto costa ma quello che costa costa un rene un rene ti faccio una domanda molto brutale poi torniamo a parlare di guerra e di pace che però insiste sulle questioni di cui stiamo parlando secondo te l'Italia è un paese razzista secondo me l'Italia è un paese forse inconsapevolmente ma sì perché c'è un tema di il colore della pelle delle persone è un tema è urticante sentirselo dire ma è un tema c'è una cosa buona una solo una che la guerra in Ucraina ha fatto in questi otto mesi al nostro continente ci ha dimostrato una cosa che sapevamo già e cioè che siamo capaci di un'accoglienza straordinaria dal 24 febbraio al 24 di marzo in un mese dall'Ucraina sono uscite 3 milioni di persone 3 milioni 3 milioni adesso sono 7 milioni e mezzo 7 milioni e mezzo cioè più dell'intera popolazione di Roma più l'Interland ce l'abbiamo fatta l'abbiamo fatto abbiamo e penso ai paesi che erano recalcitranti a farlo in Polonia solo in Polonia ci sono quasi 3 milioni di persone nella sola Polonia sono contenti? insomma però hanno fatto spazio devono andare a scuola questi ragazzini? facciamo più scuole apriamo più turni cominceranno a stancarsi? non c'è dubbio che cominceranno a stancarsi cominceranno a chiedere più denaro all'Europa? non c'è dubbio sarà giusto darglielo certamente sì hanno 2 milioni e mezzo di persone hanno preso 2 milioni e mezzo di persone l'anno scorso in Italia dal mare sono arrivate 100 mila persone cioè tu vuoi dire scusa se ti interrompo che in quel caso usando la famosa formula di Angela Merkel con i siriani di tanti anni fa di alcuni anni fa wir schaffen das ce la facciamo ce la facciamo perché hanno la pelle bianca questo stai dicendo? ce la facciamo perché ci somigliano e ci somigliano perché hanno la pelle bianca due mesi fa ho incontrato Filippo Grandi per la stampa abbiamo avuto una lunghissima conversazione l'alto commissare delle Nazioni Unite per i rifugiati che è la più alta carica dentro l'ONU presa da un italiano è una persona è una persona di grande coraggio anche e non scontato diciamo all'interno di un'istituzione che è un'istituzione finanziata dai governi e quindi diciamo in qualche modo che ai governi deve tenere conto e Filippo Grandi nel sottolineare la tenuta dell'Europa di fronte a questa alla crisi del secolo che stiamo vivendo ha detto nel commentare nel non poter commentare per postura le dichiarazioni dei politici che questa guerra ci deve consegnare un dato di realtà il dato di realtà è che è chiaro che è più facile accogliere chi è più simile a noi no? sarebbe un'ipocrisia a dire il contrario è più facile accogliere un ucraino o un ragazzo che viene dall'Uganda ma un ucraino fosse banalmente per abitudine di vita ma la sfida dell'accoglienza qual è? accogliere chi ci somiglia o sforzarsi di accogliere chi è diverso da noi ecco perché è difficile accogliere perché si accoglie il diverso si accoglie l'altro da noi perché ad accogliere il simile è come invitare a cena qualcuno che ci è simpatico oppure dividere la cena con qualcuno che c'è meno simpatico è lo stesso ragionamento che si fa sulla scuola e sul merito la scuola non serve a chi è bravo la scuola serve a far diventare bravo chi non lo è ecco perché la scuola deve andare piano perché deve dare il tempo a quelli che hanno bisogno di tempo di diventare bravi con gli altri questo serve credo docenti ditemi voi se sbaglio poi li sentiamo poi li sentiamo però insomma ovviamente non posso che sottoscrivere ogni singola parola di quelle che hai detto ho sentito dire in questi giorni non siamo marziani li giungo sempre bene allora dimostriamo di essere umani no? di fronte a quello che sta succedendo però vorrei tornare ancora un attimo alla guerra per parlare anche in questo caso della più stretta attualità no? i tuoi ultimi viaggi i tuoi ultimi reportaggi sono stati dall'Ucraina dove anche lì ci hai regalato racconti straordinari vorrei chiederti anche perché c'è un fatto molto recente di ieri che si presta a varie interpretazioni cioè i russi dopo la campagna condotta dal 24 di febbraio in poi fanno un passo indietro da Kertson che è una zona che controllano già loro al 100% ma insomma cosa vuol dire questo passo indietro che prospettive ci sono per la pace perché poi tu hai scritto un altro in quel caso non è stato un reportage ma in qualche modo anche lo era un articolo straordinario il giorno nel quale a Roma c'è stata la grande manifestazione per la pace e tu di fatto hai fatto una sorta di di lettera aperta ai pacifisti chiamiamola così no? ovviamente siamo tutti pacifisti e siamo tutti d'accordo sul fatto che la pace sia un valore assoluto però non c'è pace senza giustizio vorrei riflettere con te su questi due aspetti appunto a che punto è la guerra anche alla luce di queste ultime novità che arrivano dal fronte russo e quali sono le prospettive realistiche della pace allora la giornata di ieri è il terzo il terzo movimento importantissimo di questa guerra il primo è stata la ritirata dei russi da Kiev il secondo è stata la controffensiva di inizio settembre quindi con l'esercito ucraino che riprende tonnellate di chilometri quadrati e la ritirata da Kherson che è importante questo lo dico a beneficio dei ragazzi perché Kherson è stata la prima città l'unica provincia l'unica provincia e la prima città ad essere stata conquistata perché le guerre sono fatte di geografia e di simboli a volte più di simboli che di geografia e perdere la prima città che si è conquistato è ha un impatto simbolico molto forte internamente per il consenso che Putin e l'esercito ha all'interno della Russia e esternamente perché racconta una straordinaria debolezza è già vittoria no perché la guerra in posti così complicati dal punto di vista climatico ha delle fasi e sapevano i russi e sapevano gli ucraini che c'era tempo fino a novembre per fare quello che c'era da fare dopodiché ci rivediamo a marzo perché perché la prossima settimana le temperature cominciano a scendere scendere significa meno dieci meno quindici quindi in trincea si sta mica tanto bene e il terreno non consente più di combattere e di spostare l'artiglieria così facilmente come si poteva fare fino a un mese fa quindi c'era il conto alla rovescia per gli uni e per gli altri allo stato delle cose oggi l'esercito russo si è effettivamente ritirato facendo saltare cinque ponti teniamoli a mente cinque ponti perché questo ci serve per rispondere all'altro pezzo di domanda cioè distruggendo strade infrastrutture minando tutto quello che c'è intorno per fare in modo che quando arrivano gli ucraini a riprendersi quello che era loro incidentalmente possono saltare in aria su una mina che è la vendetta di tutte le ritirate io me ne vado però ti lascio il deserto il deserto pieno di minaccia per te se ne vanno per andarsene o se ne vanno per riorganizzarsi questo non lo possiamo sapere questo ce lo dirà ce lo dirà l'azione della diplomazia se riuscirà a fare qualcosa in un momento di straordinaria debolezza di Putin e ce lo dirà il tempo cioè cosa succederà in queste settimane cioè se Putin continuerà ad attaccare con i droni e se continuerà sarà dimostrazione del fatto che per lui la guerra è tutt'altro che è finita io che sono una pessimista di natura tendo a pensare che sarà più probabile la seconda della prima ma non non solo per lui perché lui risponde a degli equilibri interni che sono gli equilibri di chi dei famosi falchi di chi fino ad oggi gli ha detto a lui che era troppo timido e che avrebbe dovuto essere più risoluto e più violento è evidente che se l'esercito si ritira Putin non poteva non saperlo e che quindi questa diciamo decisione di ritirata non l'abbia presa il ministro della difesa Shoigu ma che il ministro della difesa l'abbia fatto a fronte di un ordine che arrivava da più in alto quindi oggi siamo contenti che siano state liberate delle zone occupate fino adesso lo siamo molto ma dobbiamo essere altrettanto accorti perché questo non significa che siamo più vicini al cesta del fuoco o alla fine delle ostilità anzi si ricorda che l'avversario quando è debole è più pericoloso perché perde lucidità questo sempre anche quando giochiamo a pallone tendenzialmente quindi possiamo aspettarci un fallo ecco e quindi la pace la cosa grottesca non dico divertente perché non lo è affatto ma la cosa grottesca della giornata di ieri è che i russi si sono ritirati da un territorio che avevano annesso con un referendum farza due settimane fa tre settimane fa quindi se ne vanno da un territorio che sulla carta è loro cioè che sulla loro carta di un referendum farza è loro cioè c'è è Monty Python non è neanche più grottesco non si è tutto antilogico loro fanno però questo vi dà la misura di quanto possa diventare estremamente rischioso e pericoloso il periodo che ci aspetta la pace nessuno di noi qui vogliamo la pace tutti quanti penso che all'unanimità vogliamo la pace non solo in questa sala il punto non è volere la pace il punto è quale strada percorriamo per raggiungerla quali strumenti se dirsi favorevoli alla pace deve essere un tripudio di ingenuità io dico no grazie non è un ragionamento che mi interessa non la pace il ragionamento sul vogliamo la pace vogliamo il disarmo ma certo ma che domanda è vogliamo la fine della fame nel mondo certo però così è Babbo Natale a che condizioni è la pace per esempio chi li ha distrutti questi cinque ponti ecco la pace si parte per esempio che chi ha distrutto paga che chi ha torturato viene sanzionato che chi ha ordinato quelle torture viene portato davanti a un tribunale internazionale perché se così non è non è pace resa se così non è significa stabilire per l'oggi e per il domani che se un dittatore ha l'atomica e un progetto imperiale può esercitare pressioni sugli altri minacciandoli e aggredendoli pace significa legittimare l'uso della forza e che pace è? non è pace è un ricatto è la legittimazione di un ricatto del ricatto del più forte e allora no e allora no allora se quella è pace e io sono guerra fondaglia forse è saltato qualcosa forse bisogna un po' riposizionare le parole sì ovviamente è giustissimo io a questa tua riflessione ne aggiungo solo un'altra e mi metto nei panni di chi era in piazza ovviamente in buona fede domenica scorsa no sabato sabato scusate e cioè dico questo è tutto verissimo quello che tu sostieni ed è da sottoscrivere lo ripeto però io da cittadino voglio rivendicare il diritto di poter chiedere alle classi dirigenti di farsi carico del mio bisogno di pace e non e non spetta neanche a me di dover dire come perché noi vi eleggiamo esattamente per questo cioè quello che tu dici ripeto io lo condivido al mille per mille però non sono io a doverti spiegare quali sono le modalità attraverso le quali tu devi costringere Putin a sedersi al tavolo queste sono cose che vedrete voi a me però interessa che il discorso della pace non sia monopolio di Papa Francesco ma anche le opinioni pubbliche ricordiamoci quello che succedeva negli anni della guerra in Vietnam ogni giorno c'erano manifestazioni in tutto il mondo non solo negli Stati Uniti io ho come l'impressione che ci siamo un pochino a sue fatti all'idea che vabbè c'è la guerra ok ci conviviamo certo c'è l'immane problema delle bollette cioè la guerra ci interessa quasi più da quel punto di vista che per carità per tanta gente che non arriva alla fine del mese è una tragedia anche quella che non il fatto della pace in sé e questo secondo me è un problema che nel discorso pubblico soprattutto italiano devo dire perché noi siamo quelli più abituati a ragionare in termini di curve contrapposte cioè chiunque fa ragionamenti di questo tipo immediatamente viene incasellato nella curva dei filo putiniani e io non sono io se ce l'avessi davanti gli sparerei magari a Putin volentieri così di oggi risolveremo il problema per quanto non lo risolveremo neanche in quel modo e noi per averlo scritto lo scrisse quirico l'ambasciata russa che ci ha denunciato però appunto io non sono affatto putiniano odio Putin in questo momento lo considero la ragione di tutti i mali però se se chiedo pace non voglio non voglio sentirmi dire tu sei filo russo questo non è un limite secondo te del appunto del nostro discorso pubblico no con tutti distingo quello che fa l'opinione pubblica scendendo nel piazza non solo è saprosanto ma è seme di democrazia per esempio io penso forse mi sono distratta ma penso che mancasse una cosa che io da cittadina non da giornalista chiederei a chi agisce e decide e cioè che noi dobbiamo essere informati su quali armi stiamo dando e su come queste armi torneranno indietro perché secondo me questo visto quello che abbiamo vissuto visto l'Afghanistan visto la Libia la Nato arma le milizie poi ce le ridate le armi ve le ridiamo stanno ancora lì e il governo d'unità nazionale a distanza di anni undici non si è ancora formato visto che lo sappiamo come va a finire quando diamo le armi e non ce le riprendiamo una delle istanze della pace indipendentemente dal fatto che si possa essere più o meno d'accordo con l'invio di armi e l'aiuto militare per un paese che si sta difendendo da un'aggressione militare ricordiamocelo quindi che combatte una guerra di liberazione noi dovremmo chiedere da cittadini che pagano le tasse che sia più o meno pubblico la quantità di armi che stiamo dando dove stanno andando chi le controlla e se esiste un processo una procedura che le faccia tornare indietro io questo credo che sia sacrosanto e che sia parte di quell'istanza io non devo dare la soluzione all'attore politico ma gli devo ricordare che io voglio sapere perché è mio diritto sapere ma è sacrosanto quello che dici sul l'attore politico deve sentire che la piazza ha una evoluzione di pace molto giusto lo stesso decisore politico ha usato quella piazza in una maniera inedita inedita perché una cosa che non si è vista per esempio nelle grandi manifestazioni della pace del 2003 contro l'invasione statunitense in Iraq che era una piazza che non era così manipolata se vuoi dalla politica che è quello che secondo me ha un po' intossicato questo discorso sulla pace cioè l'idea che un'istanza bella sana giusta della piazza sia stata manipolata di sicuro di sicuro che non si sia stata manipolata la piazza